A sto punto a me mi scappia il cervello. E no, perché questa è una truffa. Ma io mi domando e dico, ma come va uno in base a un Green Pass e capisce se so immun al virus oppure no? Ma chi è? Ma andrà? Che fatemi capire, oh! Perché a sto punto per viar sospetto che quando fanno i decreti manchi li rileggono. Oppure che alla base ci sono dei motivi politici molto molto precisi, e non lo so. E che non lo sai? Ma quante volte a me mi hanno fatto il tampone in farmacia e non mi hanno mandato la mail? Ma fammi capire, ma tu sei fatto il vaccino? Che so, due ore che stai a parlare. Una lista dei prenotati lunga così. Va bene? C'è stavamo tutti, tutti quanti. Novo stesso hub, eravamo Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik. Tutti, Amuchina. Arrivano quelli in fila prima di me. Va bene? Arriva questo, se si darà il gabbiotto, dice, oddio me, gira la testa. Pia se ne va. Dice, chiamate l'altro prenotato. Arriva questo, se siete, oddio me, viene i brividi. Pia se ne va. Vedo l'infermiere che sbianca. Disperato. Che fa? Dice, aiuta, aiutatemi. Qualcuno si deve fare inoculare. Io me lo guardo e gli dico, no, mo va più a sta siringa, va. A ricogli di quel giacone, a Rambo. Fammi finì, fammi. Aspetta un attimo. Raccontaci che te è successo, te è preciso. Sono curioso di sentire. Dice, dice. Me fanno la siringa. Premetto che l'abbe era marrone, faceva schifo. Come me inoculano, me cala la pressione. Immediatamente me sento i muscoli dei gambe che me si atrofizzano, tutti, fino a giù. Poteva essere tutto. A un certo punto me sento come una scarica elettrica. Ma vai, mona, va. Un vaccino che diventa una contraerea, re. Ma poteva essere una reazione allergica, una trombosi, un ictus, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Ah, sono rimasto al lab tre ore e mezza, moro. Vabbè, ma poi come andate a finire sta storia? Come gli dà a finire? Signori, è i dà a finire che mi hanno dovuto fare dodici dosi, dico dodici, perché non si sapeva che variante era. Hai capito? Roba che una seconda dose entrava già in coma. Domanda. Come va a spiegare questa resistenza al vaccino? Come te la spieghi? Dai. Che cazzo ne so? Come te la spieghi? Dai, forse. Eh, che ne so io. Ve lo dico io. Che c'ho l'anticorpi chi contro coglioni, ha capito? Ma magari mi venisse il covid. Ma magari mi venisse. Ho sdere in un due ore. Corri so, dieci e mezza. A mezzo giorno e mezzo ho sventrato. Comunque, signori miei, io vi dico soltanto una cosa. Se io fossi veramente un fio di una mignotta, io potrei veramente fare il nome dell'hacker che ha bloccato il sito della Regione Lazio. O sai che significa questo? Chiede un sacco di sordi. Questo significa... La pausa è finita. Tutti quelli del Moderna da questa parte, forza.